Ecco anche Hulk è contenuto in Giorgiovani Superizzi. Bruce è un coraggioso scienziato che è stato contaminato e quando è arrabbiato un'ora più si trasforma in una bestia furiosa che scaraventa ogni cosa butta tutto giù, non ci riflette proprio su, oramai è datato e non ha più scampo ma è scatenato e non si frega perché alla porta mi dici i pomini e non ci attaglia tutto tra i muscoli e ormai è incredibile Hulk è in Giorgiovani Superizzi. Allora grazie ragazzi, fattenevi un applauso, è uno spettacolo bellissimo. Grazie. Grazie.